Confermato dalla Cassazione il divieto di avvicinamento nei confronti di una giovane nonna pugliese di 59 anni indagata per stalking la quale aveva spaventato la nipotina facendo una scenata sulla spiaggia all'ex marito e la sua nuova compagna che erano sotto l'ombrellone insieme ai genitori della piccola per passare insieme alla domenica al mare. La donna non aveva sopportato di essere stata lasciata dal marito medico dell'ospedale di Lecce invaghitosi di un'infermiera che lavorava con lui. Per prima cosa la signora l'11 maggio 2015 fresca di separazione era andata dalla sua rivale per ingiuriarla manifestando il proposito di farle perdere il posto di lavoro. Non soddisfatta il 28 maggio era tornata la carica all'ospedale Vito Fazzi per parlare con il primario e informarlo dei presunti rapporti sessuali che il marito e l'infermiera avrebbero avuto nel corso degli orari di lavoro e sul posto di lavoro. Infine il 12 luglio c'era stata l'improvvisata riva al mare nel corso della quale destando agitazione aveva insultato l'ex marito e la sua nuova compagna poi non ancora placata aveva afferrato la nipotina per il braccio come per portarla via e la piccola era scoppiata in lacrime tanto da essere allontanata dalla donna benché sua nonna. Questa reazione della bambina ad avviso della Cassazione si presenta emblematica al fine di dar conto della idoneità della condotta tenuta dalla donna in generale un grave turbamento e comunque un fondato timore per l'incolumità proprio di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Per questo i supremi giudici sentenza 21408 hanno dato il via libera al divieto a carico della signora di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex marito e dalla sua compagna nell'ambito dell'indagine aperta dalla procura di lecce. Il delitto di atti persecutori spiegano gli armellini consiste in un reato abituale per integrare il quale serve che la condotta sia reiterata non essendo sufficiente la singola condotta. Sulla base di tali principi prosegue il verdetto si osserva che moneda censure si presenta la valutazione del tribunale secondo cui la cadenza e le modalità in un arco temporale ravvicinato delle condotte descritte integranti una vera e propria azione concentrica posta in essere al fine di minare l'equilibrio psichico delle parti offese su più fronti sono idonei a integrare il grave quadro indiziario nei confronti dell'indagata. Così il ricorso della signora contro la misura cautelare convalidata dal tribunale della libertà di lecce lo scorso 15 ottobre è stato rigettato. Senza successo il suo legale aveva sostenuto che si era solo trattato di scenate di poco conto prive degli elementi caratterizzanti il reato di stalking quali le continue telefonate, pedinamenti ed appostamenti sotto casa, le frasi e gli atteggiamenti chiaramente intimidatori. Per la casazione il pianto della nipotina basta e avanza come prova emblematica.